Non a grande richiesta, bensì a grandissima richiesta, arriva oggi un video su MyerExchange. Questo servirà da tutorial per vedere come fare determinati passaggi, ma soprattutto per vedere le funzionalità che ci sono in questo momento e quello che si può fare su questo exchange decentralizzato. Infatti è così che lo dobbiamo pensare. Un modello molto simile a quello che è Uniswap su Ethereum, un automated market maker, che funziona invece sulla blockchain di Errond. E quindi la differenza è questa. Tutto quello che conosciamo con i vari token e gli scambi tra essi in modo decentralizzato prevalentemente si muove su Ethereum, sulla sua blockchain. Qui invece ci troviamo su un'altra blockchain, che è quella di Errond, e ha la sua serie di token. A dire il vero, in questo momento in cui registro, la cosa è appena partita e infatti i token sono solamente tre, se vogliamo chiamarli così. Perché Errond e-gold è una versione wrappata, quindi wrapped e-gold della moneta della blockchain. Poi abbiamo MEX, che è invece il token nativo dell'exchange, come Uni per Uniswap. E USDC, che è la stablecoin emessa da Circle su blockchain Errond. L'operatività che si può fare è quella di avere degli swap, semplicissimo, si ha un token nel proprio wallet connesso e si scambia per un altro. Quello di fornire della liquidità, perché essendo decentralizzato, chi mette dentro le coppie le mettono le persone stesse. Quindi se andiamo a fornire una coppia, ad esempio la coppia di scambio, i gold MEX, andiamo a guadagnare le commissioni, parte delle commissioni che vengono pagate da chi fa gli scambi. In più, la coppia stessa può essere messa a farmare, per quello qui ci dice questa APY al momento molto alta. Infatti c'è tutta l'operatività da farming, che cosa vuol dire? Abbiamo fornito la coppia, a questo punto prendiamo la coppia e la mettiamo in staking. Proverò a fare un'operazione di questo tipo e quindi a far vedere come si fa, perché i ritorni sono così alti, perché hanno messo in palio una liquidità da incentivo per chi inizia a fare queste operazioni, così da fornire più profondità a queste coppie. Praticamente hanno messo a disposizione un quantitativo molto elevato di MEX, che sono i token dell'exchange decentralizzato, che vengono distribuiti a chi fornisce le coppie, così che si va a incentivare chi fornisce la coppia. Partiamo dall'inizio. Innanzitutto bisogna connettere a questa DAP, a questa web app decentralizzata, il proprio wallet. Qui in altro vediamo il prezzo di MEX, in questo momento. Abbiamo i vari link alle diverse funzionalità, che magari andiamo anche a vedere brevemente, soprattutto quella del bridge, perché faccio vedere anche come si può arrivare da Ethereum a questa blockchain. Però prima di tutto magari dovremmo fare una connessione. Quindi andiamo a connettere il nostro wallet. Si può connettere sia da ledger direttamente, sia da web app. Addirittura si può fare da web app con ledger. Perché una volta che si apre la web app, noi possiamo anche qui scegliere ledger. Quindi si può fare anche questo passaggio. Non voglio complicare le idee, però insomma, la cosa migliore è sempre quella di avere un hardware wallet, e in particolare il ledger, perché ledger on S e ledger on X, come vediamo, sono quasi sempre i primi ad essere supportati in ogni ecosistema. In più, vi ho introdotto ormai tempo fa la app di Myar. Questo è un vero e proprio wallet, quindi si può interconnettere il tutto tramite questa app. E oggi farò proprio così, visto che questa app ormai è anche di dominio pubblico, in quanto ci fece il video. C'è un hashtag per trovare gli indirizzi, non c'è bisogno di ricordare l'indirizzo difficile, ma basta avere un tag. Vi richiamo quel video per capire di cosa sto parlando. E basta cliccare qui, apparirà un QR code. Noi, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aprire la nostra app di Myar. Una volta dentro l'app, basterà andare sul tasto centrale, wallet connect, inquadrare il QR code e l'app riconoscerà direttamente quello che stiamo facendo, l'operazione di connetterci con Myar Exchange. Approviamo questa operazione e sullo schermo vedremo che già il tutto viene connesso l'un con l'altro. Quindi questo è il mio indirizzo e adesso ho collegato la web app con il mio wallet, semplicissimo. L'operazione che andrò a fare sarà quella di fare uno swap, in quanto ho un certo quantitativo di USDC e voglio ottenere degli e-gold da poter mettere in coppia. Perché voglio fare una coppia, li vediamo qui le coppie, e-gold USDC. Che forse è la cosa più semplice se non si parte da ecosistema Errand. Se si aveva già qualcosa in Errand, quindi si è ricevuto l'airdrop dei MEX per tutti coloro che già erano su Errand, basterà mettere degli e-gold in coppia con dei MEX e poi fare la stessa cosa. Cioè andare su Add Liquidity, si può selezionare appunto i vari, in questo caso, locked MEX, quindi i MEX bloccati, perché quelli in airdrop sono bloccati, ci dice la data quando si sbloccheranno il 20 dicembre 2021, e selezionare la coppia con i-gold. Andiamo a selezionare il massimo disponibile o quello che vogliamo mettere a disposizione della coppia e creare la coppia, creare la liquidità. Io non farò questo processo perché come vedete non ho abbastanza locked MEX e i-gold, per questo motivo andrò a fare la coppia con USDC e i-gold. Facciamo il caso in cui non ne avessi, quindi in realtà io non ne avevo perché non ne avevo questi USDC, sono dei token che sono da poco su questo ecosistema. Come ho fatto per portare degli USDC sulla blockchain di Errand, senza passare da exchange centralizzati? Praticamente sono andato sul bridge, quindi noi andando sempre qui sui tre puntini in alto a destra, avremo la funzionalità di bridge. Come funziona questo bridge? Selezioniamo cosa vogliamo fare, al momento l'unica operatività che si può fare è quella di portare USDC da ERC20, cioè da standard su blockchain Ethereum, a Errand USDC. Si può fare anche il processo inverso, se io adesso volessi portare, visto che già ne ho, di USDC da Errand a la catena di Ethereum potrei fare il contrario, ma facciamo il caso in cui noi volessimo fare questo passaggio. E li abbiamo su Ethereum e li vogliamo portare magari su Metamask, Ethereum e vogliamo portarli su Errand. A questo punto dovremmo inserire su quale indirizzo Errand li vogliamo portare. E questo sarebbe semplice perché andiamo a copiare quello che è il nostro indirizzo del nostro wallet, di quello di MyArap, lo copiamo qui dentro e adesso abbiamo un indirizzo sul quale versare. Attenzione perché il minimo che si deve spostare è 2500 USDC. Al momento il bridge funziona con questa soglia minima e in più c'è un costo di commissione di 50 USDC. Questo vuol dire che se vogliamo fare proprio il minimo ci arriveranno 2450 USDC, però ne dobbiamo comunque inviare 2500. Andiamo a selezionare Non sono un robot e facciamo Next. A questo punto si sta creando un address sul quale depositare determinati USDC. Qui se ne possono depositare quanti ne vogliamo, ma ricordo il minimo è 2500. Andiamo su un qualsiasi wallet Ethereum, prendiamo questo indirizzo che ci ha generato e funziona solo una volta, depositiamo su questo indirizzo. Una volta che la transazione dalla blockchain di partenza è stata confermata, andiamo a cliccare su Next. E da quel punto partirà un processo per il quale, potrebbe richiedere anche un po' di tempo, si porteranno quegli USDC che abbiamo depositato sul nostro indirizzo, su Errand. Con questo abbiamo fatto un ponte tra due blockchain. Ovviamente non è una cosa, non mi sembra essere una cosa troppo veloce in questa fase, richiede anche alle volte molto tempo, ed è il motivo per cui questo video in realtà è slittato di due giorni, perché l'avrei voluto fare un paio di giorni fa, e questo processo ha richiesto molte ore, quindi potrebbe volerci del tempo, proprio per portare questi 2500 dollari che adesso vi sto facendo vedere. Adesso io questa pagina non la utilizzerò, torno sul mio address, qui sulla MyExchange, e visto che il processo per me è già andato a buon fine, che cosa faccio? Voglio creare una coppia, la voglio fare praticamente paritaria, voglio avere la metà degli USDC che ho messi in coppia con i gold. Voglio utilizzare tutti gli USDC per creare una coppia di liquidità su i gold, quindi la metà la utilizzerò per comprare i gold. Facciamo 1200 dollari, oppure potrei fare anche 1240 dollari. Andrei a comprare 3.1 i gold. Bene, procedo con lo swap. Vi ricordo che il mio wallet è connesso, infatti la transazione si apre su MyRap. Clicco su continua, la firmo, si firma con Face ID, e parte. La transazione è stata firmata, andiamo in basso a destra, il processamento. Intanto vediamo che lo swap è andato completandosi. Se l'operazione venisse fatta con un ledger o con la web app, ovviamente bisognerebbe firmare la transazione con quegli strumenti, quindi nel caso di ledger direttamente con ledger, con la web app direttamente sulla pagina web del browser. Adesso lo swap è andato a buon fine, infatti il balance è andato a cambiare, qui ho 1247 USDC e 3.4 i gold, quindi quelli che ho preso, cambiato, più quelli che avevo. A questo punto ho il necessario per poter fornire liquidità, vado su Add Liquidity, la mia coppia vuole essere proprio questa, e magari vado a fornire il massimo che ho per quanto riguarda la stable coin, così mi tengo un pochino di e-gold per firmare le transazioni, per pagare le transazioni, perché proprio come su Ethereum c'è un costo da dover pagare come gas ogni volta che si va a firmare una transazione. In questo contesto i costi sono molto minori proprio per come è strutturata la blockchain. Questa operazione richiede 4 azioni e 2 transazioni. Vado ad aggiungere la liquidità e su Mayer si apre. Mi fa il riepilogo quanto mi costerà di network fee, vediamo che sono 4 centesimi di dollari. Comunque sia, devo avere dei e-gold a disposizione sempre nel wallet, questo è importante. Non fate mai il massimo di e-gold perché se rimanete senza e-gold non potete più firmare transazioni per quanto queste economiche siano. Anche un'altra transazione, la seconda mi richiede 0.1, quindi già è un pochino di più, stiamo parlando sempre di poco, ma sempre qualcosina chiede. La terza quasi un 10 centesimi e la quarta altri 9 centesimi. Transazione firmata e inoltrata. Quindi ripeto un'altra volta, bisogna sempre avere un minimo quantitativo di e-gold all'interno del proprio address perché questo serve come gas per pagare le commissioni. Se siamo a 0 di e-gold probabilmente le transazioni falliscono e questo risponde al 99 per cento delle domande che mi stanno arrivando. Liquidity aggiunta e la vedo qui. Adesso da MyLiquidity potrei andare subito su stake, quindi già mi fa fare il farming, oppure posso andare direttamente su farms e fare l'operazione di staking. Qui in alto potete vedere già un'altra operazione che ho fatto in precedenza, dove i max ricevuti in airdrop sono stati messi in coppia con gli e-gold che avevo nel wallet. Quindi ho già creato un'altra coppia e questo è APR e questo è APY. Questo è il quantitativo della mia LP, del mio liquidity providing, e questo è quanto ho guadagnato in max. Questo è quello che succederà dopo che viene creata la coppia. Si può fare harvest e si possono raccogliere. Magari facciamo anche questo processo. Adesso continuo il procedimento che abbiamo iniziato in questo video. Praticamente ho pronta della liquidità da poter depositare, ancora non sta guadagnando niente, sta guadagnando solamente le commissioni date dallo scambio sulla coppia. Attenzione, perché è consigliabile a questo punto anche fare dello staking e perché viene inserito questo incentivo così alto? Perché la coppia soffre di impermanent loss. Ho spiegato il processo di impermanent loss e quello che provoca la divergenza tra i prezzi delle due monete o due token messi in coppia in un video dedicato proprio nello studio su Uniswap che vi linko. È importante capire questo contesto perché non è un solo guadagno, ma se la coppia diverge troppo rispetto al momento in cui l'abbiamo creata, c'è una perdita potenziale rispetto al semplice holding della coppia stessa. Cioè, se io avessi detenuto semplicemente i miei e-gold e i miei USDC senza far nulla, nel tempo potrei guadagnarci di più rispetto al crearci una coppia. Questo è l'impermanent loss che diventa permanente quando noi preleviamo la coppia e questo squilibrio ha portato una perdita. A questo punto, per compensare questo rischio, si danno degli incentivi economici e questi vengono tradotti appunto nel farming. Il farming serve a questo per attenuare quella possibile perdita da impermanent loss. Solitamente le percentuali non sono così alte. Queste sono percentuali altissime perché questo processo è partito da pochissimo e viene incentivato con una liquidità enorme. Sono stati messi a disposizione più di un miliardo di dollari calcolati in MEX solamente per fare partire per bene la profondità e la liquidità di questo nuovo exchange. Come vengono calcolati? Praticamente, se andiamo a cliccare qui, ce lo spiega. L'APR, IPR, è del 716% e si riferisce ai semplici interessi che vengono accreditati per un particolare investimento sull'arco di un anno. Quindi questo è quello che guadagneremo su un anno. Questo però è un dato variabile. All'inizio era anche più alto, tendenzialmente si abbassa più le persone partecipano. Quindi comunque è molto alta all'inizio e va abbassandosi. L'APY invece viene calcolato mettendo in considerazione anche l'effetto di interesse composto. Quindi quello che si guadagna, visto che può essere rimesso a profitto, può andare a creare un effetto compounding e qui ci spiega come. Quindi l'annuale senza compounding è 715% in questo momento per questa coppia, qui 1689% e qui 421% con i loro moltiplicatori, ripeto, variabili nel tempo, quindi prima si inizia e meglio è, e invece annuale con il compounding ancora rimane superiore al 10.000%. Continuo con questo staking, per questo è consigliabile iniziare il prima possibile perché si rientra il prima possibile dell'eventuale rischio sia da impairment loss che quello dell'abbassamento degli interessi. Una cosa molto importante nel depositare è andare a selezionare oppure no questa opzione, ossia blocchiamo le reward per un anno e queste ci riconoscono un 2x sull'interesse annuale. Praticamente se selezioniamo questa opzione otterremo il 2x però invece di ricevere max otterremo come reward dei locked max. Questi possono essere utilizzati immediatamente per fare staking nella pool dello staking dei max però non possono essere sbloccati prima di un anno e questi sono i dettagli. Quindi qui dipende da che tipo di operazione vogliamo fare, quanto tempo vogliamo essere appunto coinvolti in questo ecosistema se il rischio vale la candela. Io ho valutato in questo contesto essere molto interessante un 2x anche perché come vi faccio vedere appena finiamo questa operazione intanto la firmo nuovamente tutti i profitti che vengono fatti da queste due coppie al momento sono solo queste due ossia con i gold max e i gold USDC ma stanno arrivando altri token e quando arriveranno altri token che vengono magari lanciati anche sul launchpad poi arriveranno anche altre coppie di farming quello che si guadagna anche come locked max può essere messo in staking su quest'altra pool che guadagna un pochino meno ma solo perché è vista in paragone alle altre due ma comunque parliamo di un 7164% di interessi compositi in un anno in una fase iniziale quindi comunque sia potrebbe essere interessante in tutto ciò vi sconsiglio di seguire così alla lettera quello che faccio io solamente perché in questo tutorial l'ho fatto così non è una guida come fare a livello economico è una guida come fare a livello tecnico il ragionamento economico e la strategia dipende dalle situazioni di ognuno di voi e va studiata per segno questo non è un consiglio finanziario su come fare magari l'operazione che sto facendo è ad alto rischio e per voi non va bene quindi questo ci tengo a dirlo intanto il farming è stato appunto aggiunto adesso questa pool come potete vedere inizia già a guadagnare dei max al prezzo che vediamo qui in alto ogni max che arriva mi va ad accumulare un certo controvalore in dollari la cosa che voglio fare in questo momento è andare a riscattare quindi fare harvest dei guadagni fatti su quest'altra pool in precedenza quindi circa 107 dollari che è quasi la metà di quanto ho messo in staking per far vedere come poter ammettere in compounding anche questi guadagni quindi faccio harvest all arriva un'altra transazione da dover firmare sull'app o comunque sull'edger o sull'wallet in generale una volta raccolti questi max quindi firmata questa transazione potrò andarli a mettere in staking su quest'altra ed avrò praticamente in questo momento tutte e tre che lavorano la stessa cosa la potrò fare da qui quando questo quantitativo guadagnato supera i 20 dollari quindi ogni 20 dollari posso fare harvesting e metterli in staking su quest'altra pool questa è già una piccolissima strategia che si può attuare nel contesto di mylar exchange reward raccolte le vado a depositare in staking seleziono appunto i locked max perché le ho ricevuti appunto bloccati avendo selezionato quell'opzione per moltiplicare per due le reward seleziono il 100% anche questa volta seleziono di ricevere il doppio bloccando le reward per un anno e vado a fare staking ripeto l'opzione per bloccarli per un anno non è obbligatoria se non vogliamo avere questo vincolo e non vogliamo avere un capitale bloccato così a lungo non la andiamo a selezionare e andiamo a prendere le reward che comunque anche con moltiplicatori di 1x sono molto molto alte un'altra cosa importante che voglio ribadire è che i guadagni quindi quello che si va a guadagnare dallo staking o dal farming si riceve in max e tutto è dipendente da quanto i max valgono quindi se max dovesse collassare nel suo prezzo tutti questi guadagni andrebbero ad azzerarsi questo è parte del rischio che si prende in questo contesto quindi non sono soldi che riceviamo in dollari noi riceviamo questi guadagni che sono scritti in queste percentuali in max che sono stati messi a disposizione se erond l'ecosistema il team e tutto quello che si svilupperà non farà prendere prezzo a max ma anzi lo farà perdere tutti i guadagni che abbiamo anche quelli bloccati per anni potrebbero valere nulla come in qualsiasi contesto crypto questo si deve sapere quindi ho aggiunto anche lo staking e il farming su questa coppia in questo momento ho tutte tre le pool al momento a disposizione che stanno lavorando magari adesso tu che stai guardando questo video qui ne vedrai altre perché magari ne sono state aggiunte delle altre perché è passato del tempo qui parlo di un video fatto al 26 novembre 2021 2021